Continua senza sosta anche nel periodo estivo l'azione di contrasto alla contraffazione all'abusivismo commerciale da parte delle fiamme gialle del comando provinciale di Avellino. Tre i locali commerciali gestiti da soggetti di etnia cinese ubicati nei comuni di Avellino, Mercogliano e da Tripalda, 173 mila i prodotti sequestrati di vario genere, privi dei requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa nazionale comunitaria. In molti casi sui prodotti non erano neanche presenti le indicazioni in lingua italiana previste dal Codice del Consumo e necessarie per informare i consumatori. Al termine delle attività sono stati complessivamente sottoposti a sequestro amministrativo 167.681 prodotti di bigiotteria e chincaglieria, 200 accessori per telefonini, 95 accessori per autoveicoli, 1.439 prodotti elettrici, 3.663 giocattoli. I quattro soggetti cinesi titolari dei negozi sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Avellino che procederà ad irrogare le previste sanzioni amministrative che possono arrivare fino a un massimo di 40 mila euro per ogni violazione accertata.